Musica Tribunale di Lago Negro, emergenza covid, in vista della riapertura mancano le aule adatte alle udienze, la denuncia del Codacons. Sant'Arsenio, negato al Consiglio Comunale, si cambia, si rivolge al Prefetto. Sanità in Campania ed ospedale modulare al Ruggi, il coordinatore provinciale della Lega Esposito parla di ospedale stile Cina mai utilizzato. San Pietro Altanagro, ordinanza di abbattimento per alberi pericolosi. Piaggine, dopo 30 anni è stata rivisitata la grava della risposta. Buonasera e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la giustizia. Dal 1 luglio riaprirà il Tribunale di Lago Negro. Anche qui tutto deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, cosa che risulta complicata secondo la denuncia del Codacons. Ascoltiamo la referente, l'avvocato Silvana Viola. A breve riprenderanno le odienze presso il Tribunale di Lago Negro con una serie di nuove disposizioni da seguire che ne limiteranno inevitabilmente anche il lavoro e l'azione. Limitazioni che sono state segnalate da più parti e che tal proposito ha riportato anche alla luce le difficoltà derivanti dall'accorpamento avvenuto nel 2013 di un tribunale più grande come quello di Sala Consilina all'interno di una struttura decisamente più piccola e con un bacino di utenza ridotto rispetto al foro di giustizia salese. Così come ridotto risultava anche il numero di avvocati iscritti all'ordine locale. Ora che la necessità di spazi ampi e di percorsi adatti a garantire il distanziamento sociale diventano una necessità regolata dalle disposizioni normative, ecco che si riaffaccia il problema più volte denunciato nel corso degli anni. Grande attenzione sulla questione arriva dal Codacons Vallo di Diano ed in particolare dalla referente avvocata Silvana Viola che ai nostri microfoni segnala come gli spazi per poter svolgere le udienze con l'approssimarsi della riapertura sono limitatissimi. Nel suo intervento non manca di sottolineare come il Vallo di Diano necessiti di un presidio di giustizia sul posto. L'associazione dei consumatori fin da subito ha sposato la lotta contro la soppressione del tribunale di Sala Consilina e fin da subito abbiamo naturalmente denunciato le inconcluenze cioè un tribunale più piccolo non poteva naturalmente accortare un tribunale più grande con una sezione distaccata e ad oggi abbiamo praticamente avuto ragione noi. Cioè purtroppo il tribunale di Lago Negro non è in grado di assicurare il distanziamento sociale. Dal primo luglio riprenderanno naturalmente le udienze e ci ritroveremo naturalmente ad utilizzare poche aule del tribunale di Lago Negro perché solo poche di esse hanno praticamente un'ampiezza sufficiente ad assicurare il distanziamento sociale. Noi in questo territorio questo è naturalmente un appello ai politici del territorio a naturalmente ripristinare quelli che sono i servizi nel Vallo di Idiano dal ripristino del tribunale al ripristino dell'istituto penitenziario ma anche alla creazione di nuovi servizi quale è una strada ferrata che ci colleghi alla provincia di Salerno. Lo stesso Luigi Curto di Polla deve essere praticamente potenziato perché il Vallo di Idiano è un bacino di utenza con un numero di persone superiore ai territori limitrofi quindi alla stessa vicina Basilicata ma anche a Vallo della Lucania. Non andavano soppressi i tribunali soprattutto al sud. Considerate che nel Vallo di Idiano c'è naturalmente ci sono delle infiltrazioni camoristiche che voglio dire richiedono un opportuno intervento richiedono una procura presente sul territorio. E ora la cronaca tra Pomigliano d'Arco, Nola e Ottaviano. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato un deposito di carburanti, un distributore, due cisterne mobili di gasolio abusivi, nonché 46 mila litri fra carburante e olio per motori nell'ambito di tali attività sulla A30 a bordo di un camion con cisterna. Ha scoperto 19 mila litri di gasolio agricolo accompagnato da documentazione fiscale contraffatta che ha visto coinvolte due persone del Vallo di Idiano. L'operazione infatti ha portato alla denuncia del trasportatore e del rappresentante legale della società da cui era partito il prodotto petrolifero, un 35enne e un 40enne di Polla. Andiamo avanti. Vicenda, scuola e mancata convocazione del Consiglio Comunale sono le due questioni al centro di una riflessione del gruppo di opposizione Si Cambia a Sant'Arsenio. Vediamo. Le ultime esternazioni del nostro sindaco sono fuori luogo. Inizia così una riflessione del gruppo di opposizione Si Cambia a Sant'Arsenio che interviene sulla vicenda della sezione di staccata delle scuole medie contesa con San Pietro Altanagro e sulla questione delle strutture da mettere a disposizione degli studenti a settembre nel rispetto delle norme anti-covid. Argomenti dicono di cui avrebbero voluto discutere in Consiglio Comunale, richiesto il 26 maggio, che gli è stato negato. Già in altre occasioni il sindaco si è rivolto ai cittadini con l'appellativo di Soloni, ma ora, affermano, ci viene difficile capire a chi si rivolge, scrivono in una nota, alle mamme che hanno chiesto aule sicure per i loro figli, che hanno espresso preoccupazioni circa il depotenziamento dell'Istituto Sant'Arsenese, o forse consiglieri che chiedono un Consiglio Comunale per fare chiarezza su una vicenda di cui il sindaco continua a dichiararsi all'oscuro, ma che è stata affrontata in provincia ad ottobre scorso e nel verbale redatto c'è la controfirma anche di Donato Pica. Oppure domandano ironici e da ritenersi sola, come dicono a Roma un sindaco che promette la riapertura in sicurezza delle scuole anche se i lavori sono ancora in corso, che non ha pronta un piano B nell'eventualità ci sia qualche intoppo, che non sfrutta le risorse che la campagna metta a disposizione ad esempio per i centri estivi per bambini e adolescenti, che non rispetta le regole, convocando il Consiglio Comunale per dare spiegazioni alla cittadinanza. La democrazia e il rispetto delle istituzioni non appartengono a questa amministrazione, ci si nasconde dietro l'emergenza per celare le difficoltà di una maggioranza traballante con numeri esigui e la mancanza di soluzioni. Il gruppo si cambia, concludono, provvederà ad una denuncia formale al prefetto e agli organi competenti per rivendicare il diritto all'Assemblea Comunale che il sindaco e il presidente del Consiglio continuano a ignorare. E continuo a far discutere la realizzazione degli ospedali modulari in campagna, sono costati all'ente regionale diversi milioni di euro e oggi risultano essere totalmente inutilizzati e anche inutilizzabili. A sollevare la questione il coordinatore provinciale della Lega Salerno, Nicolás Esposito, che evidenzia come soprattutto l'ospedale modulare realizzato al Ruggi d'Aragona in tempi celeri sia inattivo perché mancante di alcuni collaudi. Il coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, Nicolás Esposito, critica con dati e numeri la gestione della sanità in campagna e soprattutto a Salerno da parte del governatore De Luca. Esposito in particolare evidenzia uno spreco di risorse economiche che poi non avrebbero prodotto alcuna utilità agli utenti e che peraltro ad oggi risultano anche fermi ed inutilizzabili. Oggetto dell'analisi del coordinatore provinciale della Lega, l'ospedale modulare realizzato in area contigua al presidio ospedaliero del Ruggi d'Aragona è costato alla regione campania ben 2,5 milioni di euro, risultando però ad oggi chiuso ed ancora inutilizzabile, pare, secondo quanto riferisce Esposito, per la mancanza di alcuni collaudi non ancora effettuati. Nella nota stampa il coordinatore leghista parla di ospedale stile Cina, differendosi al tentativo del presidente della regione di voler dimostrare una capacità di realizzazione delle opere in tempi celeri, come accaduto in Cina, ma, a differenza dell'opera cinese, ci si sarebbe ritrovati di fronte ad una struttura che al momento è vuota ed inutile e, di contro, esistono in campania numerosi reparti vuoti ed inutilizzati che potevano invece essere celermente allestiti per far fronte all'emergenza Covid. L'ospedale stile Cina, allestito a Ruggi e costato più di 2,5 milioni al momento, risulta totalmente inutile. Si legge nella nota stampa firma del coordinatore provinciale della Lega, Nicolás Esposito, e continua. I lavori sono stati conclusi a tempo di record. De Luca voleva competere con i cinesi, ma, nonostante la velocità, non ci è riuscito. Una fatica inutile, come del resto ben evidenziato dal report, dal momento che, continua esposito, in provincia esistono interi reparti vuoti che potevano essere utilizzati per l'emergenza Covid. Ma questo non avrebbe fatto scena, spiega. Il serpentone di tiri in arrivo in campania non sarebbe stato ripreso da appositi droni, quindi ipotesi scartata e ospedale modulare realizzato. Nel documento viene inoltre rimarcato, come trappellano notizie, secondo cui, mancando ancora alcuni collaudi, le chiavi dell'ospedale modulare non sono ancora state consegnate ai medici destinati ad operare al suo interno. Una struttura, dichiara il coordinatore della Lega, che al momento potrebbe essere comunque messa al servizio della comunità senza necessariamente dover aspettare la nuova ondata Covid, che ci auguriamo non arrivi. De Luca, sottolinea nel finale, pensi alla sanità campana, ai rifiuti, alla disoccupazione, alla promozione del territorio e lasci perdere i teatrini televisivi. In arrivo soldi ai comuni, anche in alcuni del Vallo di Viano e Tanagro, per l'organizzazione e il potenziamento della rete dei centri estivi 2020 rivolti a bambini e adolescenti. Per i centri estivi 2020, il decreto rilancio prevede un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia pari a 135 milioni di euro, soldi da erogare ai comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre. In Campania, il Ministero per la Famiglia ha messo a disposizione degli enti locali 13 milioni 473 mila euro. Diversi, i comuni del comprensorio interessati a voler organizzare o potenziare la rete dei centri estivi facendo richiesta di finanziamento e quindi arriveranno soldi ad Atena Lucana, Auletta, Caggiano, Casa Albuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula e ancora Apertosa, Sala Consilina, San Pietro Altanagro e Teggiano. I centri estivi fissano ogni anno per bambini e ragazzi l'inizio delle vacanze e rispondono sempre più spesso ai bisogni delle famiglie con figli alle prese con il lavoro. Quest'anno se ne sente ancora di più il bisogno e lo stanziamento previsto nel decreto rilancio e finalizzato proprio a recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Quindi, nel rispetto della normativa nazionale che regolamenta i centri estivi, con i soldi a disposizione, potrà essere implementata nei singoli comuni la rete delle attività ludico-ricreative ed educative per bambini e adolescenti. Domani a Sant'Arsenio verrà riaperto al pubblico alle ore 17.30 il nuovo parco giochi di Piazza Europa. I lavori eseguiti, dice il sindaco Donato Pica, e le attrezzature acquistate grazie ai finanziamenti della regione Campania e del PSR rendono l'intera area fruibile e funzionante in condizioni di sicurezza. Il sindaco invita i bimbi, i genitori e i nonni a partecipare. Andiamo a San Pietro Altanagro. Dopo gli abbattimenti dei mesi scorsi, altri due alberi ritenuti pericolosi saranno abbattuti sul territorio comunale. C'è l'ordinanza firmata dal sindaco Domenico Quaranta. Nuova ordinanza di abbattimento di alberi ritenuti pericolosi a San Pietro Altanagro. Il sindaco Domenico Quaranta è infatti firmato l'ordinanza con la quale si stabilisce l'abbattimento e la rimozione di due alberi posti in via della sorgente via San Marzano lungo l'ex strada regionale 426 perché ritenuti pericolosi per l'incolumità delle persone. Uno dei due alberi che saranno abbattuti è infatti pericolosamente inclinato e l'altro è ormai completamente secco. Per l'abbattimento è stata incaricata una ditta di San Rufo dotata di attrezzatura idonea per effettuare l'operazione che ha dato immediata disponibilità ad effettuare gratuitamente e senza alcun costo per il comune di San Pietro Altanagro l'intervento con relativa rimozione e smaltimento del materiale legnoso. Nell'ordinanza si precisa che già nei mesi scorsi sono stati effettuati vari sopralluoghi per il monitoraggio degli alberi posti lungo il tratto via della sorgente via San Marzano e che si è provveduto all'abbattimento delle piante ritenute pericolose per la pubblica e la privata incolumità. L'ordinanza di abbattimento necessaria per scongiurare il rischio di causare danni o incidenti a cose o persone è stata emessa visto anche il verbale di sopralluogo effettuato dal personale dell'ente comunale e da personale specializzato della comunità montana Vallo di Diano nello scorso mese di febbraio con il quale si è stabilita la pericolosità di alcuni alberi posti sul territorio comunale con relativa mappa delle piante pericolose da abbattere. Domani alle ore 15.30 sul nostro canale e poi sulle nostre pagine social torna il TG Junior condotto da Miriam Mea, Francesco Cardiello e con Angelo De Paola nella veste di giovani redattori daranno notizie degli effetti del Covid e delle misure previste per contrastarne la diffusione. L'ultima puntata per i nostri piccoli giornalisti che riprenderanno poi a settembre con Angelo, Miriam e Francesco in questa quarta puntata del TG Junior parleranno di sport e delle difficoltà che i piccoli sportivi hanno dovuto affrontare a cosa hanno dovuto, parleranno di cosa, hanno dovuto rinunciare per effetto delle nuove disposizioni non perdete la nuova ed esilarante puntata del TG Junior domani alle ore 15.30 e poi in replica alle ore 18 e alle ore 20.30 noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Rieccoci tornati in studio, andiamo a Padula. Padula, sistema museo, aderisce alle giornate europee dell'archeologia con l'iniziativa Prima della Certosa, itinerario archeologico lungo la via Popilia prevista per domani, domenica 21 giugno, un appuntamento speciale che consentirà di visitare gratuitamente il Battisterio Paleocristiano di San Giovanni in Fonte e la Certosa di San Lorenzo che ospita il Museo archeologico della Lucania occidentale al cui interno sono esposti materiali rinvenuti nel Vallo di Diano e principalmente nelle necropoli protostoriche di Padula e di Sala ma anche manufatti più tardi di epoca romana. è l'iniziativa promossa dalla direzione regionale Musei Campania diretta da Marta Ragozzino e la Certosa di San Lorenzo diretta da Tommasina Budetta in sinergia con il sindaco di Padula Paolo Imparato e l'assessore alla cultura Filomena Chiappardo in collaborazione con il consorzio Artem rappresenta una preziosa occasione per esplorare il territorio e conoscere i tesori del patrimonio archeologico diffuso nel Vallo di Diano facendo tappa in due dei quattro siti del circuito museale di Padula. Spostiamoci a Sala Consilina dove nasce una nuova iniziativa che prenderà il via il prossimo 26 giugno lungo via Matteotti via Mezzacapo in piazza Umberto I organizzata la zona pedonale solidale. Al via una nuova iniziativa a Sala Consilina per cercare di ridare un po' di respiro ai commercianti locali dopo questo lungo periodo di chiusura che ha determinato anche una crisi del settore. L'associazione Io Centro supportata dall'amministrazione comunale salese ha deciso di dare il via ad un nuovo progetto che oltre a dare respiro ai commercianti salesi cercherà anche di restituire alla comunità una parvenza di normalità dopo questo periodo buio e difficile dovuto al diffondersi dell'emergenza coronavirus. L'iniziativa partirà il prossimo fine settimana del 26, 27 e 28 giugno e coinvolgerà il centro di Sala Consilina lungo via Mezzacapo e via Matteotti e in piazza Umberto I. Il progetto è denominato zona pedonale solidale e prevede l'istituzione di una zona pedonale serale che esisterà nelle sede di venerdì 26 e sabato 27 giugno lungo le vie Mezzacapo e Matteotti mentre domenica 28 giugno sarà istituita la zona pedonale in piazza Umberto I. Le aree indicate diventeranno quindi zona pedonale a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte. In questo lasso di tempo si potrà tranquillamente passeggiare lungo le ampie arterie e per l'occasione diversi negozi che insistono sulle aree di istituzione delle zone pedonali resteranno aperti per favorire gli acquisti o anche per dare uno sguardo alle tante occasioni che propongono i commercianti il tutto nella totale sicurezza inoltre gli organizzatori dell'iniziativa puntano anche ad aglietare le serate con la presenza di spettacoli curati dagli artisti locali una simpatica ed interessante iniziativa che sarà utile a tutta la comunità valdianese per trascorrere delle ore di serenità e socialità che possa restituire una parvenza di normalità dopo il totale stravolgimento delle nostre vite allo stesso tempo consentirà ai negozianti di Sala Consilina di poter mostrare la vasta scelta di prodotti che offre il settore del commercio salese Rimasta nascosta per 30 anni è stata rivisitata nei giorni scorsi la grava della risposta nei pressi del santuario della Madonna del Monte Vivo a Piaggine Rimasta inesplorata per 30 anni è stata riscoperta e rivisitata dagli speleologi la grava della risposta a Piaggine nei pressi del santuario della Madonna del Monte Vivo la grotta scoperta, esplorata e rilevata nel 1989 da un gruppo di speleologi romani a causa di errate coordinate geografiche era stata smarrita e non più visitata da allora nei giorni scorsi però la grotta è stata nuovamente esplorata da un gruppo di esperti composto da Giampaolo Pinto e Giacomo Bello Maria del Centro Altamurano Ricerche Speleologiche da Giuseppe Masiello e Umberto Trimigliozzi del gruppo speleologico Vespertilio Bari e da Pino Paladino del gruppo speleoalpinistico Vallodidiano di Pertosa l'ingresso della grava è stato ritrovato grazie alle indicazioni di Pasquale Di Perna grande conoscitore del territorio dal santuario della Madonna del Monte Vivo a quota 1.239 metri gli speleologi dopo 30 minuti di cammino hanno raggiunto l'ingresso della grava posizionato a 1.400 metri sopra il livello del mare un ingresso dalla tipica forma di imbuto e un pozzo di circa 30 metri ricoperto di moschio e roccia calcarea di lavata raggiunto il primo ambiente caratterizzato sia da stalattiti che da stalagmiti è cominciata l'esplorazione di una seconda sala più grande della prima con la presenza di un grosso cono detritico fossile l'unico rispetto agli altri cumuli più recenti raggiunto ed esplorato tutto l'ambiente ad una sessantina di metri nel punto più profondo gli speleologi hanno proseguito con il rilievo topografico fino all'uscita la montagna hanno detto ci ha regalato panorami mozzafiato considerando l'emozione di ritrovare e visitare una grotta rimasta nascosta per 30 anni possiamo ritenerci soddisfatti dell'uscita le informazioni di documentazione saranno trasferite al responsabile del Catasto Campano per gli aggiornamenti del registro ad Agropoli parte oggi la chiusura serale al traffico del lungomare San Marco si tratta di un test una prova che l'amministrazione comunale fa in un momento ancora tranquillo della stagione turistica per poter avere poi tutto il tempo per apportare eventuali modifiche parte nel weekend il primo test della pedonalizzazione serale del lungomare San Marco ad Agropoli si tratta di una scelta operata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola che nelle scorse settimane si è confrontato anche con gli esercenti presenti sul tratto che verrà interessato dalla chiusura al traffico veicolare ovvero quello compreso tra via Pasquale Voso e via della Lanterna si tratta di una prova che viene effettuata in un momento ancora tranquillo della stagione turistica per poter avere tutto il tempo di apporre eventuali modifiche o correzioni in funzione della chiusura attiva dalle ore 20 alle 2 l'area servizi di vigilanza polizia locale e protezione civile ha emesso apposita ordinanza a firma del comandante della polizia municipale il maggiore Carmine Di Biasi l'uscita consigliata per tutti i veicoli è lo svincolo Agropoli Sud da dove sono facilmente raggiungibili i diversi parcheggi dislocati sul territorio comunale l'ex campo sportivo Landolfi via Le Lazio via Romanelli piazza Mediterraneo via Largo Caruccio lo spazio adiacente l'impianto sportivo Guariglia e l'area mercatale al ridosso dell'area pedonale sono disponibili i parcheggi di Piazza Gallo via Bolivar via San Felice e della scuola elementare via Selvi sarà tassativamente vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli fino al 21 giugno il transito sarà comunque consentito ai residenti e ai mezzi di soccorso il nostro Tg è giunto al termine grazie per essere stati con noi vi auguro buona serata grazie a tutti